E mentre passeggio per il Kirat, mi imbatto in questo buco. Hmm, interessante. Dove sono nella mappa? Ah! Ma intanto sono proprio in questa zona che è piena di autovetture. Deve esserci un concessionario qua vicino perché è pieno di macchine. Comunque, intanto che cercano di uccidermi in qualche modo, ho pezzo di me... Oh! Mi fate fare una passeggiata tranquilla per il Kirat. Ma che fai? Niente, è caduto. Perquisiamolo come al solito. Mi dispiace, ho dovuto farlo. Entriamo dentro questo buchino che non mi dice niente di buono. Occhio di Yalung. Non va bene, già non mi piace. Dei funghiati allucinogeni? Ah no, foglia bianca. Doppietta? Doppia foglia bianca. Andiamo avanti. Perché non sarà facile gestire questa situazione. Soprattutto perché è... Mamma mia, quanto sono... Oh no! Sto entrando troppo! Stiamo entrando nella tana del bianconiglio. Tra poco andiamo nel paese delle meraviglie. Dovrei cadere giù quindi, in teoria. No. Un buco, così alla cazzo. Ah, lì c'è una salita. Andiamo con tanta calma. Destrezza. Soprattutto guardiamoci in giro. Sto cacando addosso. Saliamo con tanta calma. Ah, ma ci sono solo dei premietti. Leggiamo. La saggezza di Pagamin. Tutti soldati reali sono servi del popolo. Rispettate il loro nobile sacrificio. Onorate ogni loro richiesta. Che la luce di Pagamin sia con voi. Ma vai a pifferare da un'altra parte. Allora, apriamo la prima. Va, un po' di soldini e un oggetto. Da quest'altra parte, una chiavetta USB della polvere d'oro e un bel po' di soldini. Portafoglio quasi pieno, attenzione ragazzi. Infatti stavo guardando che mi pesano un po' i pantaloni. Le tasche di dietro dei jeans. Quindi niente, un buco abbastanza ingombrante. Non siamo andati nel paese delle meraviglie. Intanto faccio una scivolata alla chiellini. Niente, non serva a niente. Allora, cominciamo con lo sgamare il più possibile la gente. Con la macchina fotografica, vediamo. Vorrei trovare l'allarme. C'è un altro qua, ma cosa fa? Sta scorreggiando? Sta facendo cacca, no? Sta cercando di riparare la macchina, molto probabilmente. Non posso neanche usare frecce perché lo vedono subito. Allora, vediamo cosa succede qua. Un altro elefante. Bellissimo però ragazzi, guardate che bello. Elefantino. Potrei entrare con l'elefante, ma loro suonerebbero l'allarme immediatamente. Quindi in teoria, se voglio fare un ingresso con l'elefante, devo distruggere l'allarme. Che è? Proprio qua, che culo. Allora, rilancio un sasso da quella parte. Vediamo se ci cascano tutti. Eh, ragazzi, ho sentito qualcosa. C'era un sassolino di là, eh. Che camminava da solo. Io farei un tentativo. E andare a capire che cazzo è. Un altro, ragazzi. Andate, andate veramente perché. C'è qualcosa che non quadra qua, eh. No, ragazzi, comunque sia, non sarà facile. Quello mi stava beccando, porca miseria. Vai via con sto cazzo di fucile. Allora. Inquadriamo anche lui, così almeno ce l'abbiamo. Chi è? Ma sti cazzo di cani di merda. E vediamo se è riuscita a salire, occhia. Allora, io direi di piazzare della carne. Tanto qua non ci sono quelli con le frecce che... Oh, merda. Che cacchio fai? Ragazzi, che culo. Che culo. Che culo, ragazzi. Comunque, niente, io ho lanciato il pezzo di bisteccozza. Ne lancerò un altro per essere sicuro. Vediamo. Slam. Altro pezzo di bisteccozza. Vediamo cosa succede. Altri cagnolini. Altri cagnolini, quindi, non serve a niente. Non li stiamo distraendo abbastanza. E loro sono ancora tutti nella zona dell'allarme. Ma che palle. Che cazzo faccio? Ma che fai? Ma sei pazzo? Scherzavo, dai. Allora, l'allarme è qua sotto, se non mi ricordo male. L'unica cosa sarebbe cercare di colpire tutti con l'arco il prima possibile. Ma chi è ancora? Figa le api. Ma cosa sta succedendo? Pure le api di merda, cacchio. Altra bistecca giusto per sprecare tutte le bistecche che abbiamo, cercando di distrarli. Ok, andate tutti verso di là, forza. Verso la bistecca, regà. Dai. Ascolta, mi ha rotto il cacchio. Dov'è che è l'allarme? Ma sono caduto giù dal... Ma porca put... Grandissimo! E ora si può fare casino. O almeno, si può comunque andare silenziosi, come dei ninja, e uccidere tutti i slam. Attenzione. Come un ninja, nessuno mi può vedere. Nessuno può vedermi. Non mi avete visto? Mamma mia! Ah, ma quello lì ce l'ha ancora col... Eh no, ma sono cacchi tuoi. Sbranalo, Lessie! Sì, Lessie, spaccalo, Lessie. Ti spacco pure io, Lessie. E lo so, ragazzi, però poi me lo ritrovo contro, Lessie. Quindi grandissima azione per conquistare questo avamposto della Cippalina. O Cippalippa. Grandissimo. Abbiamo conquistato l'avamposto, ragazzi. Bella mossa. Procuriamoci tutto quello che ci dobbiamo procurare per andare avanti in questa avventura fighissima. Ragazzi, mi sta piacendo un casino questo gioco, ma... Sapevo comunque che mi sarebbe piaciuto, perché anche il 3... Ci ho giocato veramente tantissimo. Queste sono missioni, appunto, di cazzeggio. Cerco di non spoilerare la storia, anche perché poi a me non piace molto fare, diciamo, le storie. Probabilmente farò anche dei video quando uscirà di The Witcher. Però non so, sinceramente, ragazzi, perché... Tanto nuove attività. Sbloccate. Dicevo, appunto, che non mi piace molto fare walk-throw. Ma qua è pieno di api, ma vaffanbrodo. Ok. Quindi, ragazzi, da sopra l'autovettura... Chiudo qui questo video di... Chiamiamolo... Cazzeggio e conquista dell'avamposto. Guardateli tutti qua adesso. Sono già arrivati tutti i nostri compagni di squadra del Sentiero d'Oro. Ci vediamo al prossimo video su Far Cry 4. Panorama... Bela! Abon Pickle than level della Nordica. Qui per il nostro canale... Ciao... Ciao... 晚上... Ciao... Ciao situation... Ciao... Ciao...